secondo me sai che cosa è stato bagliato il fatto dell'ospedale io mi stavo a diritto dall'aspetto per la morte di Ugo e si portò l'ospedale perché sì i ragazzi magari per qualche punto che facciamo l'ospedale ma che c'è? tu c'è il dato? te lo chiedo proprio così sì sì io non ci stavo male per presentere anche io quando faccio qualche sede ho parlato ma non ho talleggiato qualche affezza quello che possa non c'è molto, non ho apprezzato qualche sede che è sotto il gruppo da vendare poi il fatto che si parla, c'è i velli lì, non ci abbiamo si può? la voce e c'è il velo di Dio, scusa quindi è domani meglio, è anche di insercizare noi ci sono dicendo che abbiamo l'opera, c'è una rovetta e le vedi quanti spagnoli ormai l'ho fatto la stessa però la cosa che non capisco è il che avete sfasciato questo ospedale non lo fai vedere? l'ospedale di Ducchi andiamoci ad un errore dimentichiamo questo dolore però tu c'eri andati in ospedale? sì la verità e chi è combinato? no noi conti stanno andando e va bene ciao 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 Grazie.